Da ieri sera coprifuoco alle 23, un primo piccolo passo verso il lento ritorno alla normalità. Dal 7 giugno slitterà a mezzanotte, dal 21 giugno verrà completamente abolito. Il Molise dovrebbe anticipare con il passaggio dal 1 giugno in zona bianca dove il coprifuoco non è contemplato. Un'ora in più per adesso, vitale per i ristoratori che puntano a fare il pieno di clienti anche nelle ore serali, in attesa dell'inizio del prossimo mese quando sarà possibile pranzare e cenare fuori, anche nei locali, al chiuso e consumare al bancone del bar. Quest'anno è stato molto difficile, abbiamo avuto una bella perdita, però ce la stiamo mettendo tutta. L'importante è che usciamo fuori da questa pandemia, stiamo cercando di organizzarci e speriamo che a presto riaprono il consumo all'interno al bancone e cerchiamo di fare il nostro meglio. Da un lato il ritorno alla piena attività lavorativa, dall'altro i ristori, gli aiuti dello Stato indispensabili per superare le difficoltà. E dopo il via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sostegni, il provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso e che interviene su tanti fattori, sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è l'approvazione del decreto sostegni bis. Oggi ancora non ci danno niente perché non so se ci saranno altri ristori e sì, è stato un sollievo. Diciamo che con quei ristori ci abbiamo pagato il fitto e qualche po' di spese così, ma pochissimo, se no alla fine non è che abbiamo coperto tutto quello che ci è venuto a mancare.